Giuseppe Guagnano, segretario generale della FICTEM CGL Lecce, siamo in corso del congresso di categoria CGL, a te chiedo qual è la parola chiave del lavoro nel Salento? Sicuramente in questa provincia non può che non essere manifatturiero, qual è il futuro del manifatturiero? Come siamo nella condizione di riposizionare il manifatturiero? La tradizione di questa provincia del Salento è stata il manifatturiero, solo nel settore della moda, negli anni 2000 in questa provincia c'erano oltre 22.000 addetti in quel settore, oggi ancora oggi abbiamo grandi aziende di eccellenza che rappresentano i marchi più importanti del settore a livello anche nazionale tipo Gucci, ci sono aziende che stanno crescendo, stanno crescendo vertiginosamente anche con marchi pronto, allora oggi la capacità del sindacato, delle istituzioni dove sta? Sta nella capacità di politiche attive del territorio per mettere in essere e in rete soprattutto le aziende del manifatturiero, non ci può essere sviluppo, non ci può essere futuro all'interno di questa provincia senza le aziende manifatturiere.